Siamo nella scuola che addestra i futuri cani guida per i non vedenti. È giorno di festa al centro cani guida Lions di Limbiate che apre le porte al pubblico. Da vent'anni tra musica e buon cibo un open day per far conoscere all'esterno la storia e l'operato dei soci a favore dei non vedenti. Nell'imbiate dei 2016 si è festeggiato un nuovo traguardo. È una giornata importante per il nostro centro in quanto abbiamo inaugurato come vedete qui alle mie spalle i nuovi allevamenti. La nuova Norseri è una struttura all'avanguardia con 5 sale parto, locale veterinario, cucina per lo svezzamento e la zona ludica dove i futuri cani guida testano e superano le proprie paure giocando. L'area permetterà di incrementare la nascita dei cuccioli senza doverli più comprare dall'estero con grandi vantaggi economici e migliorando la selezione. È un bel traguardo cercare di aumentare sempre la nostra produzione per i non vedenti perché purtroppo ci sono tante persone che aspettano e noi dobbiamo agire e lavorare per in tal senso. A poche settimane dall'inaugurazione sono due le cagnoline che hanno già partorito nella struttura dando alla luce 11 splendidi Labrador. Per i nuovi arrivati appena è iniziato un percorso lungo e in salita diventeranno degli angioletti a quattro zampe? Lo scopriremo nel prossimo Limbiate Day.